Oggi un'altra importante partita è un derby, lo giocate fuori casa anche se siamo a Canicattia al Palasport Sette Livatino perché la Fulgentissima Anaro gioca in questo impianto sportivo con tanta grinta, tanta determinazione quindi un impegno maggiore oggi per la vostra formazione. Sì certamente, quando si parla di derby già si sa benissimo che i ragazzi e tutto l'ambiente certamente saremo portati a dare di più e a cercare di esprimere ancora meglio il nostro potenziale che in queste ultime due giornate è venuto un po' meno. Ecco, è venuto un po' meno perché naturalmente magari c'è stato un calo di tensione o di attenzione avete fatto anche delle amichevoli, l'ultima l'avete fatta con il Canicattia di C1 lei ha avuto buoni riscontri da questi test? Sì, io devo dire che i ragazzi come sempre durante gli allenamenti, durante le partitelle settimanali si esprimono sempre al 100%. Poi purtroppo anche degli episodi durante queste ultime due partite nelle quali anche per merito molto degli avversari abbiamo pareggiato per 2-2 ci sono state delle piccole disattenzioni e delle situazioni che non ci hanno permesso di portare il bottino pieno a casa. Ricordiamo che si gioca alle 19 quindi sarà naturalmente l'occasione anche per dimostrare a voi stessi insomma il valore di questa squadra, tra l'altro siete ancora in corsa per la Coppa Italia con la Fulgentissima ci sarà un altro impegno, è un momento topico, importante per la vostra formazione? Sì, assolutamente sì, questa partita di campionato è la successiva di sabato prossimo sempre contro il Naro, questa di campionato e quella di sabato prossimo di Coppa certamente è un bivio importante anche in questa primissima parte della stagione perché andare avanti in Coppa comunque è un onore, è una cosa importante a cui teniamo e ritornare a vincere in campionato per continuare nel nostro cammino positivo che fino ad oggi assolutamente comunque c'è. Per quanto riguarda invece la formazione, oggi avrà a disposizione i giocatori, mancherà qualcuno? No, no, i ragazzi sono tutti a disposizione purtroppo durante questo primo periodo abbiamo avuto sempre dei piccoli acciacchi da parte dei ragazzi che non ci hanno permesso di allenarci sempre al 100% e come avrei voluto, però per oggi sono tutti disponibili e pronti al derby.